ciao a tutti ero a crema il 3 dicembre e ho accompagnato mio fratello a fare una visita e ho fatto una passeggiata nel parco vicino al fiume serio questo è il primo oggetto e ho iniziato a filmarlo perché ha fatto un forte bagliore che ha attirato la mia attenzione e l'ho seguito quindi con il visore notturno sperando che replicasse il bagliore anomalo mentre lo guardavo speravo dicevo dai 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 sapevo che era un oggetto anomalo non era un aereo un satellite ormai li conosciamo abbastanza bene questi oggetti ed ecco qui che fa il bagliore eccolo lì bellissimo bellissime anche da vedere occhio nudo si vedono bene anche senza gli attrezzi le videocamere dopodiché è scomparso e non ha più emesso bagliori questo è il rallentatore l'ingrandimento poi proprio mentre stavo per andare via e riapparso un oggetto sopra le piante con un bagliore fortissimo che purtroppo non ho filmato e questo è l'oggetto l'ho seguito con il visore e ha emesso altri bagliori però purtroppo più piccoli si notano bene comunque molto belli peccato che il primo bagliore che è stato veramente fortissimo non sono riuscito a riprenderlo però mi ha permesso di inquadrare l'oggetto anche questo dopo ha smesso di fare i bagliori ed è sparito all'orizzonte era più veloce rispetto al primo oggetto e questo è l'ingrandimento traballavo un po' avevo anche le mani abbastanza girate si nota il bagliore anomalo veramente molto bello grazie dell'attenzione un saluto grazie grazie grazie